C'è stata, cari amici, una bomba, una bomba cicuana, sì, quella di Antonella contro Giulia Salemi, capiamo un attimino cosa è successo, parleremo di Grande Fratello VIP, ma prima di farlo, per i nuovi utenti, per coloro che non mi conoscono, io sono Max, parliamo di gossip e di tv, se non siete iscritti per tutti gli altri che magari mi hanno già visto altre volte e volete, non volete, perdervi nuovi video, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, ma vediamo subito l'argomento di oggi. Allora, dobbiamo fare un passo indietro per capire bene le cose, Antonella Fiordelisi durante la puntata che c'è stata l'ultima, insomma, quella di lunedì, si è trovata davanti all'ex fidanzato Gianluca, lui ha detto di essere ancora innamorato, sì, ma lei non ricambia i sentimenti attualmente, poiché è presa da Edoardo Donna Maria. Nel corso del confronto tra Antonella e Gianluca, il conduttore Alfonso Signorini ha detto a riguardo qualcosa e ha detto, Antonella ti ha lasciato per consentire a lei di vivere serenamente l'esperienza del grande fratello. E queste sono state parole che hanno provocato la reazione di un'altra vecchia fiamma di Antonella, cioè Francesco Chiofalo, ma non soltanto questo, perché su Twitter sono tanti commenti contro la vippona. Credo che qui a questo punto, siccome sono stati tanti, saranno anche i commenti in questo video che saranno contro la vippona, chi lo sa. A leggere gli umori dei telespettatori ci ha pensato Giulia Salemi, quest'anno voce del popolo che riporta in studio i commenti dei social pro e contro qualsiasi cosa sia, dei concorrenti del grande fratello. E forse, forse i tweet al veleno, letti in puntata o soltanto la voglia di confidarsi, ma fatto sta che Antonella ha lasciato quella che sembra una vera e propria frecciatina contro Giulia Salemi. Come risposta su Isa e Chia, durante una conversazione con Michelin Corbaia, Antonella ha detto di aver avuto un flirt con Francesco Monte. L'ex volto di uomini e donne è stato prima fidanzato con Cecilia Rodriguez e poi, e poi, di Giulia Salemi. E secondo quanto riporta i gossip in generale, pare che Antonella Fiordelisi abbia avuto un flirt con Monte all'epoca del suo fidanzamento proprio con Giulia Salemi. Diciamo che alla notizia, quindi alla bomba di Antonella contro Giulia Salemi, il popolo di Twitter si è schierato un attimino con la nuova opinionista del grande fratello VIP. Non so se per voi ha fatto bene o no, ma potete, se volete, dire la vostra qui sotto nei commenti. Ah, ma quindi Antonella è stata con Monte? Ma non ci sto capendo più nulla. Questo uno dei tanti, e poi tipo, Antonella ha detto la cosa di Monte solo perché Giulia ha mostrato i tweet contro di lei. Questa ragazza è veramente piccola vipera e cattiva dentro. Ma questi sono soltanto alcuni dei vari commenti, che sono veramente tanti, contro la vippona. Questo è tutto, io mi fermo qui per ora per questo aggiornamento, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè, come sempre, intanto regolo, sì, a fine video regolo l'impostazione per la prossima notizia, quindi non ve la perdete, vi aspetto.